Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare in questa puntata. Trasformazione di Fidi Toscana in una società in house, pari opportunità via libera alla nuova commissione, hospice di Arezzo, carenza di personale all'ospedale del Casentino. Oggi si completa un percorso, oggi tutta la Toscana avrà un unico numero per accedere dalle forze richieste di accesso alle forze dell'ordine ma anche al sistema di emergenza. Il numero 112, un lavoro importante guidato dal dottor Lubrani a Firenze, una centrale operativa importante che è in grado di localizzare con estrema precisione da dove arriva la chiamata, in pochi secondi di dilottarla alle forze dell'ordine piuttosto che ai mezzi di emergenza perché le nuove tecnologie oggi ci permettono di fare tutto questo, ci permettono di arrivare vicino ai cittadini. Io ho sempre detto che la politica deve svolgere bene il suo compito se in grado di essere all'altezza degli occhi delle persone e di dargli risposta. Questa del 112 va esattamente in questa direzione, quindi ringrazio tutte le forze dell'ordine, il personale del mondo del volontariato, le nostre ASL, se siamo riusciti a fare tutto questo è perché il sistema Toscana ha funzionato e sta funzionando. Non sarà l'affidito scana ad entrare nel capitale delle aziende, non è questo quello che serve, serve una società finanziaria come è l'affidito scana, oggi mista con capitale anche delle banche, non solo della regione, ma come lo sono tante altre finanziarie a totale capitale delle regioni in Italia, per offrire alle imprese strumenti che facilitano l'accesso al credito, che servono meglio dal punto di vista del mercato finanziario e che oggi più che mai di questo c'è bisogno. Presto e bene non sta insieme, noi dobbiamo avere la capacità di fare prima possibile, ma questo prima possibile dipende dalla possibilità di compiere una valutazione ponderata, motivata, profonda che solo una analisi specializzata di un advisor di cui noi ci stiamo dotando potrà offrirci e alla fine avere la possibilità di un nuovo strumento, appunto una FIDI Toscana rinnovata a partire già dall'anno prossimo, quando cioè saranno operativi i programmi regionali con i fondi strutturali europei, credo che sia sufficientemente buono appunto per affrontare una nuova fase di ripartenza dell'economia toscana. Non siamo soddisfatti perché prima dobbiamo fare la fotografia di quello che è successo. FIDI Toscana negli ultimi dieci anni ha perso 47 milioni di euro, negli ultimi dieci anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione. Questo è quello che è successo in Regione Toscana con FIDI Toscana. Lo dicevamo da anni, state attenti perché quella società così come oggi in house non può andare avanti e non può andare avanti perché ormai c'è stata la modifica della lettera L del decreto Bassanini, le garanzie le dà il credito centrale e quindi è anacronistica tenuta così come oggi. Però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo. La faremo in house con quali tempi, se continuiamo così, FIDI Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno. E non possiamo permettercelo perché il nostro territorio e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto di credito regionale che eroghi non solo le garanzie ma che eroghi direttamente i soldi. E questo deve essere fatto insieme a Sviluppo Toscana. La Regione Toscana deve sostenere un processo di fusione e di accorpamento ma lo deve fare in tempi rapidi. Noi siamo per una società in house sul modello così come nel resto d'Italia. FIDI Toscana è l'unica finanziaria regionale che non è in house ma che è partecipata dal privato. Fra l'altro la domanda che abbiamo fatto oggi in aula è ma col privato ci avete parlato? Ma sono disposti a cedere le quote? E quanto ci costano quelle quote là? Queste sono le domande alle quali non abbiamo ancora ricevuto risposte. Sono le linee giuste. Occorre veramente fare una riflessione attenta partendo da quello che FIDI Toscana ha rappresentato negli anni che ci stanno alle spalle con risposte anche molto importanti per cercare di avere uno strumento che possa accompagnare le nostre imprese nel mercato finanziario del futuro definendone quale sarà la natura, quale sarà la dotazione. Quindi credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano, quelle dal Consiglio di Amministrazione di FIDI Toscana attuali, quelle che possono venire dai soggetti istituzionali, dai soggetti creditizi, dai soggetti sociali o economici. Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. Nei prossimi anni arriveranno anche risorse importanti dal PNNR, arriveranno dai fondi europei, dai fondi nazionali e credo che questo sarà ovviamente l'aspetto molto più importante, ma avere uno strumento di intermediazione sarà altrettanto fondamentale. Noi ci convince di discutere del futuro di FIDI Toscana, facendo due riflessioni. La prima, che non può essere fatto finta che non ci sia un passato. FIDI Toscana ha perdite per circa 50 milioni di euro negli ultimi dieci anni circa. Noi vorremmo capire che cosa hanno fatto gli organi di controllo se si sono attivati rispetto a un disastro finanziario di questo genere, una voragine che poi pesa su tutti. Che cosa hanno fatto gli organi di governo per evitare che si arrivasse a queste vicende qui, a partire dal rapporto con la centrale del latte, 50 milioni di euro che non possono essere messi sotto il comodino. Detto questo, ci interessa parlare del futuro di FIDI Toscana. Abbiamo noi promosso questo dibattito con l'ordine del giorno che presentammo e fu approvato in maniera condivisa durante il dibattito su Monte dei Paschi di Siena, dove noi riteniamo che la Toscana, a partire dal tessuto imprenditoriale, ma anche il tessuto delle famiglie, ma anche il tessuto degli enti locali, soffra della mancanza di un grande istituto di credito che accompagna e sostenghi il tessuto socio-economico toscano. Per questo riteniamo che FIDI Toscana possa essere il collettore di quello che è rimasto in Toscana, sparite le grandi banche, ovvero di mettere insieme le fondazioni bancarie, di mettere insieme le casse di risparmio rimaste, di mettere insieme le banche del territorio, anche quelle private rimaste, e che appunto faccia quest'opera di coordinamento che porti ad avere un soggetto di credito importante toscano, regionale, che affondi la propria testa e le proprie gambe nella nostra regione e che possa con la propria forza rendere più forti le imprese nel nostro territorio. Deve cambiare, a mio avviso è terminato un percorso, serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado da una parte di intercettare i finanziamenti comunitari, di essere un'interfaccia nei confronti del governo anche per le risorse del recovery fund e nello stesso tempo sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio, le idee imprenditoriali migliori, accompagnare la crescita delle imprese, investimenti nei capitali, nei mini bond, nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca ma magari ci sono le idee, quindi deve essere un soggetto finanziario che sia d'accollante da una parte verso il basso, nelle aree di sviluppo economico della Toscana dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo e dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare i finanziamenti comunitari e nazionali, quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta, che termini l'esperienza per quello che finora adesso abbiamo conosciuto i rifi di Toscana e si possa andare verso un soggetto nuovo magari che sappia integrare la propria funzione anche con sviluppo Toscana. Credo che sia ormai arrivato il momento di una struttura in house più agevole, più snella, che sappia rispondere direttamente alle esigenze della politica, del territorio, della conoscenza delle imprese e che non si vada a sostituire a soggetti finanziari perché quell'esperienza a mio avviso non è stata positiva. Sicuramente l'obiettivo è quello di capire bene dalla maggioranza quello che vogliono sia il futuro di finito Toscana. Oggi in Consiglio regionale ci aspettavamo ovviamente un po' più di risposte, mettiamola così, in realtà siamo ancora in una fase interlocutoria anche perché di fatto noi siamo in mano a quell'advisor che dovrà capire, farci capire ma anche illuminare la giunta su quella che potrebbe essere una soluzione, prospettata anche dal Presidente in campagna elettorale, che è quella di riportare finito Toscana in house, quindi farne sostanzialmente un braccio operativo regionale affinché possa essere agevolata l'accesso al credito così come il sostegno al nostro sistema imprenditoriale. La questione è una, il tempo. Purtroppo noi abbiamo perso tanti anni diciamo in situazioni di difficoltà anche oggettive di finito Toscana a garantirsi una ripartenza. Abbiamo avuto una gestione molto oscillante e di certo non possiamo esimerci anche da fare delle considerazioni sulle governance passate, di una come dire forte influenza anche della politica nella stessa gestione dalla nomina del Presidente al Consiglio di Amministrazione. Oggi però come ripeto il tempo non ci consente più di procrastinare delle scelte. C'è una Toscana che deve ripartire ed ha bisogno di strumenti che siano adeguati ai tempi. L'advisor finirà la sua missione, così ci dicono, tra 11 mesi alla fine dell'anno. Noi pensiamo invece che questa procedura debba avere dei tempi molto più accelerati, debba dare delle risposte importanti in tempi rapidi. La Commissione Pari Opportunità dalla sua origine rappresenta tutte le forze politiche all'interno dell'arco del Consiglio regionale e quest'anno per la prima volta non avrà una delle componenti, quella del Movimento 5 Stelle, perché le opposizioni hanno deciso in tre gruppi che sono di accaparrarsi in una sorta di bulimia delle poltrone tutte e sei le posizioni per le nomine da loro scelte. E questo è significativo e oggettivamente singolare da parte di gruppi politici che ad esempio hanno votato contro, si sono astenuti per quanto riguarda la promozione della legge ZAN e soprattutto denota un atteggiamento dal punto di vista di accaparramento di posizioni che in questo caso sono soltanto onorifiche, che fa veramente poco onore al senso istituzionale e al rispetto che si dovrebbe avere all'interno di questo Consiglio. Come soluzione provvisoria sicuramente anche se sarà mia premura verificare che ad Agazzi ci sono tutte le condizioni e caratteristiche tipiche di un hospice. E nei miei diritti quello di poter fare questi sopralluoghi sicuramente lo farò perché lo sapete bene, seguo questa vicenda da fino a quando si è creato il problema, quando con il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nella provincia di Arezzo purtroppo l'ospice ha dovuto cambiare sede. Sappiamo che è stato trasferito prima a Pescaiola presso la struttura di Coenè, poi a San Giuseppe aumentando progressivamente il numero da 2 a 4. Oggi siamo arrivati a 7 posti ad Agazzi. Gli risultati importanti, ma la soluzione resta quella che mi piacerebbe fosse davvero realizzata, quella di creare una cittadella della salute nella zona del Pionto per ottenere una serie di risultati. Il primo è riqualificare un'area che gli arezzini sanno bene essere importante ma in questo momento purtroppo in situazione di degrado e poi creare una cittadella della salute che la città di Arezzo merita. La sanità non ha colore politico, la sanità veramente deve essere nel cuore di tutti. Portiamo avanti questa battaglia tutti insieme perché Arezzo lo merita. Abbiamo appunto interrogato sulla quantità di medici ospedalieri e di infermieri che sono appunto nell'area sud-est, un'area che è composta da 13 ospedali e non è un caso appunto proprio il tempismo di questa nostra interrogazione perché come abbiamo potuto leggere dalla stampa locale il sindaco di Bibbiena lamenta una forte carenza appunto nella struttura presente nel suo comune. L'ospedale di Vallata, l'ospedale di periferia ha un ruolo importantissimo sia per dare risposta ai cittadini ma soprattutto ha un aspetto anche importante sociale perché poi ci si lamenta del fatto che in questi luoghi di Vallata come per esempio il Casentino molte persone abbandonano per destinare la propria vita nelle città dove nascono meno bambini, dove appunto c'è in atto uno spopolamento. Ecco noi crediamo che un servizio diretto e vicino al cittadino sia fondamentale anche per garantire la vita in questi luoghi. Per poter andare avanti su questo nostro interesse abbiamo bisogno di conoscere qual è lo stato attuale appunto di questi 13 ospedali dell'area sud-est. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.